Quarta giornata dei nostri giovani alla GMG di Lisbona. Dopo le parole del Santo Padre che ha parlato ai giovani della riconciliazione, della misericordia di Dio e del perdono, i nostri ragazzi hanno partecipato alla catechesi che ha visto protagonista Don Luca Palei, una catechesi che ha poi lasciato spazio alle confessioni. Tra le celebrazioni della giornata una lunga via crucis nel parco sul lungo fiume di Lisbona. In questo luogo sono state raccolte anche alcune testimonianze di giovani di altre nazionalità presenti alla GMG. Vi facciamo ascoltare quelle di due ragazze spagnole. Siamo sul lungo fiume di Lisbona con due ragazze spagnole. Quale è il tuo nome? Laura Diana. E di cui sei? Spagna Madrid. E' la vostra prima GMG? Sì, l'unica, la prima. Grazie. Una parola che per voi descrive questa esperienza. Unica. Unione e comunità. Un ricordo che vi porterete una volta tornati a Madrid? Allora che tanti giovani sono uniti per stare insieme e festeggiare. Vedere il Papa è stata un'esperienza unica che mi ha riempito davvero il cuore. Infine un augurio che volete fare a tutti i giovani qui a Lisbona. Speranza e comunità. Alla sera poi grande festa al concerto organizzato per tutti i giovani.